Sulla falsa riga della festa della pizza dal sapore estivo si è svolta ieri sera in un clima completamente differente a Mottola, la prima serata di Lievitando con il Natale, manifestazione organizzata dall'associazione culturale Mottola Città del Gusto per mettere in mostra i prodotti tipici locali, dolci e salati. Lievitando è tutto quello che lievita, cioè dalla parola già si capisce che tutto quello che lievita noi stiamo dando lustro sia al salato che al dolce nella speranza che la cosa ci dà perché fa un continuo frattino e sinceramente speriamo di avere più massa possibile e più gente possibile. Abbiamo l'onore di avere con noi per fortuna YouTube, abbastanza conosciuto, abbiamo la presenza della Sala Azzurra che ci fanno prime e secondi, abbiamo pizze, tutto quello che è completo sia salato che dolce. La nostra è un'associazione di ristoratori, fondata proprio sulla ristorazione locale, dimostriamo che noi siamo abbastanza uniti come associazione e che riusciamo a fare anche delle belle cose per il nostro paese. Stasera si replica e domani l'ultimo appuntamento con le bontà locali nel centro di Mottola, con gli stand dell'artigianato e di oggettistica varia, il tutto accompagnato da buona musica.